Avete avuto come da depurare l'accoglienza al folklore locale. Vi è piaciuto? Il programma prosegue con il tropical cocktail di benvenuto che sarà servito nel spiazzo alla vostra sinistra. Via! Sì, sì, andiamo, andiamo. Alza, mi! Mi comunicano che il cocktail è stato spostato per ragioni tacriche al palmetto alla vostra destra. Corre, Raus, Raus! Siamo in campo! Alza! Nuovo controordine. Il cocktail se l'ha servito nel bungalow oltre la piscina. Gabby, Paola, Raus! Ehi, 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 tutto che fai? E' sempre uno di ogni gruppo che vuole fare tutto di testa sua. Io? Sei italiano? Sì. Siete tutti uguali, tutti coi baffi neri. No, io... Mangi spaghetti, suoni il mandolino. No, no, no. Dici cose e poi fai altra. Ma io... Guarda che qui devi rigare, Drizza, camicia! Raggiungi gli altri! Senti, guarda che io non ho il... Via! Raus! Ecco, eccovi. E gradisce? Ecco, posso vedere? No, no, buona buona. Questo cocktail board è molto pericoloso. Guarda, guarda. È un po' perissimo. Eh, sì, però devo dire che è buono. Sì. Un quarto di gin, un quarto di rum, cucchiaio alla tavola di peperi gallenna, paprika, piripiri africano, nitro, glicerina, viccia curta, sale e pepe. Come va? Eh? Si è rinfrescato? Era un po'... Era forte. Era un cocktail molto... Li fanno molto forti. Ma queste parti. Che fa col mio pinocchio? Me lo dì, me lo dì. Eh? Me l'han regalato. Ma davo un'occhiata così. No, no, me lo consuma lei, perché me lo guarda, me lo guarda con una violenza, me lo guarda troppo. Le donne guardavo. Un attimo. Il binocolo! Il mio binocolo! Il binocolo! Eccolo, eccolo. L'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori. L'ha trovato? Eureka! Meno male. Alleluia. Meno male. Meno male. Il binocolo. Eccolo qua. Eh? Ha notato quel signore? Eh? È un tedesco. Beh, senta. Forse è me. Andiamo. Venga. Venga di qua. Mi si è in volto. Amici! Amici! Tutti di corsa al totem dell'amicizia per l'assegnazione chiave Bunkalov. Per facilitare l'interconoscenza tra gli ospiti, la distribuzione delle abitazioni viene affittata al cazzo. Ad ogni chiave è attaccato un filo. Il filo di Arianna. Seguendo filo raggiungerete il Bunkalov e il compagno che il testino vi ha assegnato. Buona fortuna! Buongiorno! Sono arrivato, geometra Anch'io però Con qui l'albero ancora E poi mi unisco a questa bella con cui A lei A questa bella Adesso mi unisco Mi unisco a qui Ma mi continuo Mi continuo Mi continuo Mi continuo Scusa Il filo di Marianne Looking for room Italian Passport Baffler Mandolin La nuova La nuova Il filo di lira Il filo di Pericolo di cadu... Ma chi ha ? Vai ! Il filo ! Dentro il filo ! Dentro il filo ! Loro ! Loro ! Dentro ! La Muscine... Loro ! Piel ! Heine ! adonghi ! Pericolo ! Sulu ! Pericolo ! Perito, a un dopo sole, per pietà È là No Sì, è là No Ma cosa ho fatto? Mi sono addormentato al sole Metta quello Questo? Sì Lo bevo? No, lo spalmi Lo spalmo Le metta un po' Sì Vedrà che si sentirà meglio Bene, perché? Oggi il sole ha fatto capolino E mi ha sorpreso A tradimento Che cosa sono queste due? Amache Sì Nelle cliente Non c'era indicato così C'era scritto lettini No, no, c'era scritto amache Ah, no Nascondono una certa insidio No, per carità Io l'ho provata stamattina, è facilissimo Non mi sembrano molto sicuri Vuol vedere? Mi comunicano una certa Mi comunicano una certa nervosia Attenzione Come fa? E uno E uno E due E due E tre E tre Oppa E buonanotte E buonanotte Sì E buonanotte Lo faccio anche io Uno E ce l'ho scritto E ce l'ho scritto nell'epilino Va bene, via Uno Due Tre E buonanotte Ma cosa fai? Si mette a fare il pagliaccio adesso Sì Credo D'aver perso un tempo Nel buonanotte Su Un momento Non sono molto pratico Di questo tipo di Insomma E tu Tiri su anche l'altra gamba Anche l'altra? Già Bisogna affrontarlo Con molto rispetto Ecco Dunque Tranquillo Metto la gamba Su Che voglia di scusare E buonanotte